Musica Bentornati con le consiete previsioni a cura di Meteo One. Al nord il tempo comincia a cambiare per l'arrivo di una perturbazione nord-atlantica che apporterà le prime precipitazioni proprio sul nord-ovest e le regioni tirreniche. Al centro-sodo invece l'alta pressione anche nella giornata odierna garantirà bel tempo e cili sereni. Ma attenzione ad un possibile peggioramento previsto nei prossimi giorni. Ora andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 10 aprile. Al mattino nuvolosità sparsa su Puglia centro-meridionale e Lucania. Al pomeriggio residua nuvolosità sui monti lucani ma senza reschio di precipitazione ovunque. La serata si presenterà con cieli stellati e solo qualche nube innocua. Per quanto riguarda le temperature così come possiamo vedere dalla grafica saranno in aumento ovunque specie nei valori massimi con punte oltre i 20 gradi. Venti calmi e variabili brezze lungo le coste adriatiche. Per quanto riguarda i mari saranno da calmi a poco mossi. E allora passiamo al nostro consiglio di appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Alfonso Zuccalà che immortala il bellissimo tramonto nascosto dalle nuvole sulla spiaggia di Rivabella a Gallipoli. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappola oppure le mail che vedete in sovrappressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.